Musica Cari compagni, io penso che questo congresso che avviene dopo vent'anni del sistema ambicolare di profonda crisi della seconda legge pubblica di una situazione di una crisi economica e sociale che può essere definita come disfacimento in Italia del suo messaggio produttivo del suo patrimonio, del suo territorio, della sua cultura dal dopoguerra ad oggi non c'è stato mai un tasso così alto di persone che non lavorano si parla di circa 3 milioni di persone che cercano lavoro e 3 che hanno rinunciato e nel portice di tutti questi elementi siamo governati da minoranze che osano non fare l'emergenza non fare una legge elettorale adeguata ma continuano in modo per efficare a smantellare la più alta conquista in Italia ottenuta dal dopoguerra che non è la più alta per noi ma è sicuramente la più avanzata per la democrazia in questo paese cioè la Costituzione italiana una minoranza l'altra mattina il Parlamento ha ridotto i tempi di presentazione della lettura del percorso del libertà 3 mesi a 45 giorni ha fatto passare emendamenti che abolivano la possibilità di fare subemendamenti alla riforma semipresidenziale e qui abbiamo ascoltato un amico del PD che ci ha detto ragazzi la prima parte tanto non vado, chiamo ma se un paese e la risposta autoritaria dei poteri forti è quella di avere un sistema autoritario e il semipresidenzialismo è quell'elemento è il passaggio per gestire la crisi in senso di classe in senso autoritario come si fa a dire che la prima parte non è toccata intanto è toccata già dal 93 per quello dicono bisogna fare i conti in caso non d'arrivo quando non c'è più una testa a voto c'è il voto utile non abbiamo un'uguaglianza davanti alla legge quanto esercitiamo quel diritto secondo se parliamo del 50% che non va a votare l'arroganza di questi signori è ancora più grave terzo ci siamo scordati che prezzano loro quella costituzione un prezzo di sangue un prezzo di distruzione una guerra mondiale e ci siamo scordati che per 50 anni la difesa è mantenuta quella costituzione altro sudore altri prezzi altre discriminazioni perché al centro della costituzione non c'è il potere unico che è un soggetto al centro della costituzione c'è il lavoro la giustizia sociale l'uguaglianza per tutti e tutte allora io qui lascerò l'ordine del giorno che leggo sul lettico per una mobilitazione nazionale permanente a difesa della costituzione ovvero da settembre a testa bassa per organizzare nei territori e a livello nazionale le mobilitazioni su questo tema perché per i comunisti il tema della democrazia e del socialismo sta insieme e tutto quello che ci siamo conquistati con sudore e con il sangue lo dobbiamo difendere perché se non passeremo per una generazione di incapaci di pigliacchi di incompetenti ci vogliamo assumere questo senso questo peso storico morale oppure vogliamo reagire e questo tema è legato anche al tema del lavoro altra questione perché vedete prima che dal punto di vista pratico il tema del lavoro l'abbiamo perso ragazzi ci voleva il segretario il senso c'è stato uno scambio tra il popolo e il potere si è preferito il benessere la battaglia per i consumi e la vendita ha affascinato anche i mezzi di classe operaria questa roba cioè l'uguaglianza e la solidarietà sono stati sostituiti da altri valori e quindi parlare di sindacato parlare di lotte parlare di vertenza se non riparte da questo tema che mette al centro i rapporti di potere nel mondo del lavoro e nella produzione e il ruolo della vecchia e nuova classe operaria dei lavoratori della paraccia e della Medici come ruolo dirigente per ricostruire un senso di comunità nazionale noi non sapremo reagire alla frammentazione di questo paese alla perdita di memoria alla mancanza di un collante tra il nord e il sud del paese e quindi diventa centrale questa roba qui perché anche qui c'è stata la sinistra riformista che ci dice che non verrà toccata prima parte della Costituzione che però si dimentica che l'articolo 3 non è un consiglio quello della Costituzione dice che il compito della Repubblica è rimuovere le condizioni che impediscono al lavoratore di avere un salario una casa un lavoro proteggio di questo nome una vita timidosa non è un consiglio è imperativo nella Costituzione e dall'altra parte invece che abbiamo che il problema è che vediamo se a protezione gli diamo un po' di soldi vediamo se a protezione gli diamo un po' di soldi i 9 miliardi dati dalla comunità europea sono 1% di quello che è stato dato in 5 anni alle banche cioè 900 miliardi cioè questo è un elemento è una discriminante che ci fa ragionare quei termini sull'Europa lo sappiamo noi che l'Europa deve essere stato il luogo dei due guerri mondiali e quindi il tema della pace e dell'unità europea è un tema fondamentale ma è un altro tema non è quello che ci hanno messo loro per questo distinguiamo tra necessità dell'Europa e l'Unione Europea così come è cioè agente dei poteri forti transnazionali quindi è loro due questioni democrazia e lavoro c'è tanto da fare c'è tanto da discutere e per questo anche gli ammendamenti presentati ai compagni universitari mi hanno convinto della giustezza degli ammendamenti perché quegli ammendamenti rispondono gli ammendamenti che abbiamo votato nei circoli della loro giustezza perché non si può giocare più ragazzi è inutile che vuoi conteggiare una donna che non ti vuole perché quella ti potrebbe proprio denunciare memoresti questo è il rapporto che ci abbiamo convinti di casa e se il sistema insomma è onesta violenza parlo di chiunque a un rapporto subalterno con l'attuale PD con le scelte concrete in questo momento del Partito Democratico cosa diversa crea le contraddizioni al Partito Democratico non gli si creano con il cappello in mano chiaro si creano con la battaglia delle idee con le lotte il tema che tu hai posto giustamente sui beni comuni ha riformato il modello non la condivido di più però i temi della critica e i temi di quella di la collocazione del PD che stanno nei riementi avventi delle sessioni rafforzano quella roba perché ragazzi o noi troviamo l'agente storico del cambiamento si chiama classe operata oppure noi appresso ad atticismi elettoralistici ci hanno già sciolto cioè il vero ce l'ho sciolto e il dubbio finisco dicendo che Grammici è stato uomo delle sconfitte temporaneamente ma ha avuto il coraggio di resistere nel compito nostro è il coraggio di resistere perché quello che oggi è una sconfitta domani può diventare una vittoria però bando a ogni subpartenità sia la sinistra economista sia la sinistra radicale una volta c'era un grande partito comunista in Italia qualcosa ancora del buono in quella roba c'è riforma e rivoluzione vado schematizzando non sono mai in contrasto dobbiamo percorrere tutti e due i percorsi ma per percorrere quei percorsi dobbiamo essere credibili poi i passi nei prossimi mesi sulla Costituzione sul lavoro sulle contraddizioni degli altri perché quest'autunno dentro il centro-sinistra i schizzi come disse a Francesca un anno fa di Carca saranno allevate in potenza grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti